La Roma ha le forze per sostituirsi, mette Ludica nel terzino destro e tiene ancora questo ragazzo, Emerson, terzino sinistro, che paga le conseguenze qua il Gensus, però a me personalmente al calcio italiano a tutti mancherà da morire, però sono sincero. Ci manca la Roma, anche la Roma, bello de nonna, 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 ma già quando un ragazzo fece quella cosa lì già prese 8-9 mila punti in più, pensa Franco, pensa Furio, legge l'ultimo messaggio, dai. Non possiamo studiutarsi facendo un riferimento a Gasperini, niente, non fai passi proprio a Gasperini, proprio non ne vuoi sentire ragioni. E' l'uomo Gasperini e Gasperini. No, no, l'uomo Gasperini, quella è la Gasperini dell'Atalanta, ancora stanno pensando a me ne estra lei, a me sembra che Gasperini abbia ripartato completamente questo genere. Perché non guarda a faccia nessuno? No, non si può leggere, se no scoppiano i dafferugli. No, no, lascia stare. Ragazzi, non mi stuzzicare a leggere dei messaggi che poi scoppiano dei dafferugli in diretta. E' meglio, meglio. Calmati, il problema è che sono simpatici questi messaggi, però... No, 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 è da invitare. Se tutti mi autorizzate io volevo, se no, se non mi autorizzate io volevo. Dai, se calci e frecciai il labbro, oh! No, 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 no. Allora, calmi. Sento un silenzio gelido. sentite, alle 9.56 però io vorrei andare alla prossima diamo caro Gelco una martingala del giovedì della prossima perché è vero che siamo tipo lunedì però già siamo all'antivigilia del prossimo tour allora piace la nuve guarda Furio che lei compra non mi stuzzicà non mi stuzzicà che bella un messaggio a te a Melli a te a Melli e anche a no però sbaglia sbaglia l'ascoltatore perché ci aveva ragione Furio quando vedeva dal Circeo il come si chiama oddio che bella di fu ischia ischia è la Circeo in alcune giornate particolarmente no perché questo dice che vedevi Corvara da Circeo non ha capito niente Corvara? magari allora Lazio Sassuolo Lazio Sassuolo Furio Lazio Sassuolo non sfrugliate è uno a più uno poi vediamo se tutti è Ugrano se tutti stanno bene